Questi sono i confini dell'Unione Sovietica dopo la morte di Lenin, avvenuta nel 1924. Proprio in seguito a questo fatto, i suoi due collaboratori più stretti, cioè Lev Trotsky e Josef Stalin, lottarono fino all'ultimo sangue per prendere il suo posto. Uscì vincitore Stalin, che mandò in esilio il rivale e instaurò una vera e propria dittatura personale dal 1928 fino al 1953. Trotsky si rifugiò in Messico, dove venne però assassinato molti anni dopo, nel 1940, proprio da un sicario di Stalin. Stalin aveva un grande progetto. Voleva trasformare l'Unione Sovietica in un moderno paese industrializzato e voleva realizzarlo nel più breve tempo possibile. Quindi procedette in questo modo. Fece spostare nelle città grandi masse di contadini e li fece lavorare nelle fabbriche trasformandoli in operai. L'agricoltura, perciò, da quel momento sarebbe servita per sfamare gli operai delle città. Per realizzare questi due obiettivi, però, fu costretto per prima cosa ad abolire la NEP e con essa tutte quelle libertà che Lenin aveva concesso negli ultimi tempi. Cosa significa in pratica questo? Innanzitutto non fu più permessa alcuna forma di proprietà privata e i contadini non poterono più vendere le loro eccedenze. Non solo. Vennero creati i kolkots, cioè delle aziende agricole molto grandi in cui la terra, le macchine, il bestiame erano tutto di proprietà dello Stato. Ogni anno, ovviamente, lo Stato esigeva la maggior parte di ciò che veniva prodotto. Molti non furono d'accordo con questo provvedimento, ad esempio i kulaki, cioè gli agricoltori proprietari terrieri. Addirittura, per protestare contro questo provvedimento, arrivarono ad uccidere tutto il bestiame e a bruciare i campi, pur di non darlo allo Stato, provocando tra le altre cose anche una crisi alimentare notevole. La conseguenza fu che divennero oggetto di una repressione brutale e vennero deportati nei gulag e di loro non si seppe più nulla. Che cos'è un gulag? I gulag erano dei campi di lavoro forzato, situati nei punti più difficili della Russia. In pratica, un campo di concentramento dove venivano rinchiusi tutti quelli che non erano d'accordo con la politica del governo. In teoria, lo scopo era quello di riportare sulla retta via chi aveva sbagliato. In realtà, erano una punizione pesantissima e servivano a sfruttare il lavoro gratuito dei detenuti. Inoltre, le condizioni di lavoro, il clima, l'ambiente in cui vivevano, li portava comunque a morire distenti. Non per caso, erano disseminati nelle zone più inospitali dell'Unione Sovietica, come ad esempio la Siberia o le isole Solovostin nel Mar Bianco. Non si sa con precisione quante persone morirono tra il 1919 e il 1956, ma si parla di alcune decine di milioni, più che le vittime dei lager nazisti. Ma torniamo al progetto economico di Stalin. Se da una parte l'agricoltura non migliorò, Stalin riuscì però ad ottenere dei risultati per quanto riguarda l'industrializzazione. Venne elaborato un piano quinquennale con obiettivo principale la costruzione di industrie pesanti, cioè quelle siderurgiche, elettriche, quelle che producevano le armi. Come puoi vedere da questa cartina, il progetto effettivamente si realizzò, ma la vita degli operai era faticosissima e molto, molto povera. Gli unici vantaggi che il regime di Stalin in quegli anni assicurò alla popolazione fu un'istruzione aperta a tutti, questo significa che ad esempio anche i figli dell'operai potevano accedere all'università, e il sistema sanitario gratuito. La dittatura di Stalin era però così dura e le condizioni della popolazione così disastrose, che a un certo punto perfino alcuni dirigenti del partito manifestarono la loro perplessità. Ma Stalin era diventato ormai un dittatore assoluto, difeso tra l'altro dalla polizia segreta, il KGB, quella che ai tempi di Lenin era la cieca. Così, nel 1934, Stalin diede il via alle cosiddette purghe. In pratica eliminò tutti gli oppositori, mandandoli nei gulag, non prima di aver organizzato dei grandi processi pubblici. Dopo essere stati torturati in tutti i modi, gli imputati si dichiaravano colpevoli, e questo serviva a Stalin per dimostrare al popolo che erano loro i responsabili delle loro sofferenze, e lui, come un buon padre di famiglia, li aveva smascherati e puniti. Ovviamente tutto questo era propaganda. Stalin fu un maestro nel creare per sé stesso un mito. Il popolo, incapace di pensare, fuorviato dalle menzogne del regime, lo acclamava quasi fosse un dio. Dopo aver ripulito il partito da chi lo contraddiceva, Stalin stabilì la pena di morte per i traditori, e anche per chi non denunciava i traditori. Per evitare di essere accusati di tradimento, la gente cominciò a denunciare amici, parenti, conoscenti, per prima, per mettersi al sicuro. Questo stato di cose diventò in breve tempo un vero e proprio periodo di terrore. Lo stato socialista si era trasformato in stato totalitario.